Presentate le iniziative culturali che si svolgeranno nella Sala Manzù a Bergamo a partire dal 2 marzo fino al 25 luglio. Un ricco cartellone di eventi che spaziano tra varie forme d'arte, dalla pittura alla poesia. Erano presenti il presidente della provincia di Bergamo, Matteo Rossi, consigliere delegato alla cultura Alberto Vergalli, il dirigente del settore Walfar, Turismo e Cultura della provincia, Silvano Gerardi e rappresentanti delle sette associazioni promotrici dell'iniziativa che saranno ospitate nella Sala Manzù. Direi che abbiamo avuto l'idea di invitare qua tutte le associazioni che si occupano di arte sul nostro territorio, Bergamo e provincia, per aprire questo calendario di eventi dedicate all'arte, alla pittura, alla scultura e quant'altro. Per ripristinare un vecchia tradizione che è quella della provincia, appunto di dare gli spazi rivolti alla cultura. Per far vedere che la provincia batte un colpo dopo qualche anno di latitanza per vicissitudini che tutti noi conosciamo e che da adesso in avanti, anche grazie a una legge regionale, riprenderà con tenacia, con la propria idea, a occuparsi di cultura e stare vicino alle associazioni che si dedicano appunto alla pittura, all'arte e alla cultura in generale. Anche quest'anno la provincia prosegue con la felice tradizione di mettere a disposizione questo spazio prestigioso per eventi culturali, spiega il presidente Rossi, quello bergamasco è un territorio di grande fermento culturale e noi siamo contenti di fare la nostra parte per valorizzare la pratica e la passione con cui queste associazioni lavorano per amore dell'arte in tutte le sue forme.